Su Fortnite insieme al nostro capitano Ciao raga Ok bene Oggi in questo video andremo ad usare solo le armi delle NPC Però Però Potremmo usare Oh ma Vabbè Potremmo usare all'inizio le armi che troviamo a terra Ok? Per rendere un po' più sacro il gioco Finalmente E' impossibile ragazzi che avevamo provato anche l'altra volta Siamo andati dall'Ezza che aveva un cecchino Quindi maledetta Eh però ce l'ho distrutto subito Quindi Fail incredibile parte 1 Vediamo se ci sarà la parte 1 Ma fra c'è solo Ci sono due tizi Io vorrei No un tipo No questo con il robot di tipo Da uno stile E' aspettare Volutare prima Speriamo non la ruoli Io c'ho una pistoletta Guardate io uccido tutti con la pistola No non è da brutto Oh Mi tramite Mi tramite Mi aprimarla Wee Waiu 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 Allora Allora All'arma esotica E' un segugio di ombre Non so che sia Posso migliorare le mie armi Solo se non è un'arma esotica Non ho Senti Facciamo che te la prendi tu la mitra di brutto Se io mi miglioro le armi No Luca Fermo non fare niente Un secondo Non fare niente Io mi faccio un tacco Dove sei No Luca non ti puoi fare potenziamenti eh No Dove sei infame Mi devo fare Non ti puoi fare potenziamenti Come no Tu non fare niente Ci muoio senza pompa Tu non fai niente Luca ti puoi prendere le armi solo da terra Non puoi potenziare E puoi prendere solo con le zone Potenzi mille armi potenti Guarda che c'è un tattico Fermo ti dico io cosa fare Perché non è ancora capita Questa zona C'è un tattico l'agentaria da comprare Bro io mi dico Ci penso io Guarda Ti dico se lo puoi comprare oppure no Se è un'arma che sta al centro sì Infatti te lo puoi prendere Godo 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 Io mi prendo Godo tantissimo Ma aiuto Aiuto Fra No aspetta Non uccidere Volevo potenziarmi le armi Bro Non te le puoi potenziare Che cavolo Non me ne frega niente Io non voglio Io non voglio Volevo potenziare Io non voglio Volevo potenziare Ok Ok Wow Ma questa pistola che ho io Ti fa Vedere praticamente Ah Tu sei sotto te Ok Ok Sì Mi ha acceso uno Dammi colpi a salto Infamina Cosa aveva una miti Non ponderarmi dagli altri O da terra Sono solo colpi No No dagli amai colpi Bro mi servono Dagli amai colpi Ne pochi Tanto tu hai la mitra Non il pompo Oh colpi pompa Colpi di costaro No No Ma hai acceso brutto Sì Ho preso anche il suo P90 Ok Siamo a due armi esotiche Andiamo in safe Magari Passiamo anche da manche Magari prenditi il medikit Ottimo Ok andiamo subito Cioè moriamo Aspetta Scildone Perfetto Se trovo degli scildini sono follie Hai degli scildini Mi servirebbero colpi a salto Mi servirebbero colpi a salto Colpi a salto ne ho solo dieci Colpi a salto ne ho solo dieci Oh oh colpi a salto Colpi a salto Gli ho chiesti Gli ho chiesti Cioè vai Aiuto No No L'ho lanciato Non ti credo Ti abbandono Ciao Vengo anch'io Oh Tu c'è una macchina Fermo No Davvero Ma Luca non sai sfondare Non sei Sera l'assista Sera l'assista Sì vandalo Oh Com'è possibile che questa roba non si distrugge Oh Ma basta È noto Che cavolo Comunque siamo già durmi esotiche O armi dei boss La stessa cosa Vieni Uii Sali Fermo Sali Fatti il medikit Fatti il medikit Ce l'ho Tu l'ho lanciato La mia montagna Non riesco a prenderlo Lo vuoi che la andiamo a riprendere? No Allora se mori Non ti resti Via 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 Ha 2 Vadove 5 No Sa No No Ali le montagne è la mia strada le strade non sono niente no volevo fare il 360 l'acqua non è niente aspettiamo impulsi 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 ma qui c'è un campfire impulsi 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 fra ma la possiamo uccidere il mando e se lo chiediamo non possiamo prenderci l'arma perché tecnicamente non è nel pg vabbè dai ma chissene bro è l'arma più forte del gioco non me la fai prendere appena morto e appena vista morita con la p no è appena aperto in chat la scritta il mandorale è stato uscito da tutto tutto no sto approfondando me la posso fare cosa è però non ho scelgini aspetta che perché mi dà un battuto fastidio mi faccio lo scelgione per capire che a fianco a me non ho scelgine infatti si i miei su mori non tirassi andiamo da manca via andiamo da manca e che signore allora diritto il mio rotto orribile si senti ospre sono sotto tira perfetto chiuso l'impulso chiuso l'impulso ciao no luca luca c'è il mandoriano ok vale la sua arma se facciamo che vale me la pioio va ok se la prende chi se la prende vieni no perché tu sei più avanti no fra me lo voglio gliela vabbè senti no rispettiamo non prendiamolo no 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 c'è il mandarino e io lo voglio c'è il mandarino c'è il mandarino e io lo voglio a miseria c'è di no aia 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 buona fortuna è morto muori mi sono troppo forte ok tecnicamente mi dai colpi dai colpi oltre di vita e sono pochi anzi no proprio chi non ne ho come non ne hai anni a 7 di solito tiene da 19 allora se troviamo un medico me lo devo fare io perché abbia capito che io sono il più forte no perchè io sto di vita è tutto il bottino che si fa colpire fisso c'è man cake prendiamoci l'arma esotica il falco della notte me la prendo io ma aspetta voglio vederla ce n'è solo una la prendo io falco della botte io mi devo fare da farlo c'è il mio consiglio mio dio è bellissimo ti dà la visuale sono il pesce termico come quando non devo fare rotti voleva la mille attenzione comunque nel frattempo dopo tutto questo siamo sotto tiro che comunque ragazzi la frutta fa bene la frutta fa maglietta nelle vostre mamma assassina vai vieni siamo in safe si vai vai fatta no che sfiga è ok ok mi servono mi servono altre venti di vita mi servono il posto aspetta faccele aspetta no se ci sono dei cittadini sono miei e non ci sono il mio salto è mai colpia salto è un asalto no ma davvero fammelo vedere luca non è un'arma esotica toglierlo ti può prendere a volarmi dei boss serve poi non lo spetta al fungo rispetto a me io mi fido io mi fido ma non mi fido dai non ci credo 48 sono arrivata al cento di vita guarda come te la televiarmi questa e questo e poi vabbè un bel bene bisogna prendere io due andiamo ad ora sono le mesi che fosse un le più buono medikit quanto vado potevamo potevi farti devi farti in me di che ti aspetta e non aspettare senti io prendo anche il fungo e la banana anzi non vuole fungo ha fatto molto scatto c'è un moto schifo non come il moto schifo si fa ci fa ci fa ci fa 20 21 io no ho scappa perché qui sotto è comunque andiamo esce e prendi il motoscafo se c'è anche c'è l'ho visto che dobbiamo a prenderci l'air drop magari ci trovano scarletti e ma non puoi prenderla si oltre che legge e quindi non c'entra un cavolo quelle perché tra le più grossi brutti dai broma veramente è difficile capo brava fa schifo senza un assalto non è non è forte no però dovrebbe esistere un assalto e poi tu non ti lamentare che c'è un cecchino cioè il cecchino vabbè non fai neanche un cecchino provo a giocare l2 l2 senza mirare l2 è mirare e r2 si lo so fanno scopo no non è un fanno scopo fa elettrico io scappa sono morti di anima rianima di anima rianima di anima ma che fai dai rianima dai rianima chissene aspetta mi distruggono no barriera umana barriera umana comunque ragazzi per oggi è tutto iscrivetevi al canale alla prossima la challenge alla fine è riuscita alla prossima ciao ciao